L'accoglienza è un elemento assolutamente importante per qualsiasi ospedale e in particolare per un ospedale pediatrico. Un corretto arredamento, un'atmosfera particolare che riesca a catturare il bambino, trasportandolo in un ambiente onirico ma anche amico in cui si senta protetto da parte di elementi che per lui sono elementi di gioco, di conoscenza, quali possono essere gli animali. Noi abbiamo scelto un ambiente che è rappresentato dalla giungla, diventa essenziale. È un giorno speciale perché oggi è l'inaugurazione dell'allestimento grafico del reparto di radiodiagnostica pediatrica. Un allestimento speciale grafico che è il primo in Italia, il terzo in Europa e serve per trasformare un ambiente ospedaliero in un ambiente il più possibile felice, animato e sereno per i bambini che entrano. Riusciamo a combinare la tecnologia che mettiamo a disposizione, una tecnologia rispettosa dell'ambiente e della salute umana per cui con la totale mancanza di emissioni permette di essere utilizzata in ambienti speciali come quelli ospedalieri. Come azienda partner di HP, mondo latex. Da subito abbiamo visto l'importanza di creare un progetto rivolto al MEIER, ai bambini e ai loro familiari. Fondamentale il supporto ricevuto dalla categoria associati per la creatività, meravigliosi, sono stati i supporti messi a disposizione dalla Averi Deniso e prezioso è stato il lavoro svolto dalla Tecno Solar Film per la stampa e le attività di decorazione. L'idea della giungla è nata dal desiderio di creare un ambiente che possa aiutare al bambino ad entrare in una dimensione di divertimento e di gioco con gli animali e che abbia la funzione quindi di far vivere il momento dell'esame con meno ansia e meno stress, aiutandolo appunto a distrarsi attraverso questo ambiente giocoso. Con questo progetto abbiamo dato una risposta a un bisogno concreto e lo dimostriamo con il coinvolgimento di un nostro cliente, la Pietra Santa Farma. Con gli stessi inchiostri utilizzati per le decorazioni del reparto abbiamo realizzato un ortofad, un occlusore per terapie ortottiche dedicato al tema della decorazione. Siamo convinti di aver fatto una cosa unica nell'interesse della nostra comunità locale. È un orgoglio poter fare in modo che attraverso la nostra tecnologia, attraverso la creatività italiana si possa alleggerire, addolcire un'esperienza come quella ospedaliera che per i bambini è sempre particolarmente impegnativa. Per noi come HP è un doppio piacere essere qui oggi perché fa parte della missione che abbiamo di essere parte delle comunità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.